On top of the news this evening is speculation concerning the real facts behind the Department of Health announcement about a radioactive spill supposed to have occurred yesterday at the state nuclear plant. Cosa state combinando? Chi ha interrotto la trasmissione? Non te la prendere con me, io non c'entro, è stato il capo a telefonare. Mio Dio, è incredibile. È assurdo. This is Channel 5 TV station. We're being attacked. For God's sake, send somebody fast. Da Tarantino e da Rodriguez e da un altro, l'episodio di Rodriguez, anche quello ci sono delle cose prese, proprio prese tutte dal mio film. To an actor, it's a difficult challenge to die in a scene. And they just keep cutting to the different subplots and the people just get fucked up. Unции Stop! nonsense Mitra Sono Before it's too late.